Sapevamo che la Salernitana, vedendo anche la formazione iniziale, venisse qua a difendersi e ripartire, purtroppo in una di queste ripartenze è riuscita a farci gol e dopo gli si è creata la partita che volevano, però penso che da recriminare oggi a Lentella ci sia il fatto di non essere riuscita a trovare il gol, ne abbiamo fatti due ma purtroppo erano irregolari quindi niente, lavoriamo, cerchiamo di lavorare, domenica abbiamo un'altra partita in casa e cerchiamo di riprenderci questo terreno che abbiamo perso oggi. Come detto prima, loro si chiudevano molto bene, poi cercavano questa palla in profondità per coda sappiamo che è un attaccante importante, una situazione ha preso la traversa, un'altra ha fatto gol però penso che al di là di questo Lentella ha fatto la partita, ha cercato di creare poi è normale che quando perdi e loro sono tutti dietro ti viene magari da forzare qualche giocata da essere poco lucido magari quando serve, magari sbagliare la scelta però penso che abbiamo dato tutto e abbiamo provato fino alla fine a portare almeno a casa un pareggio che era oro però niente, così. No, come dicevo, quando perdi ti viene la cosa di forzare la giocata e magari non fai la scelta giusta che ce l'hai davanti agli occhi ma cerchi magari quella un po' più difficile però ecco a volte ci riesce e oggi è decisamente riuscito meno. Sarebbe cambiato la posizione in classifica se oggi avessimo vinto però non cambia l'obiettivo che è quello di provarci fino alla fine però siamo tutti là, domenica ci sono tre scontri diretti e noi giochiamo ancora in casa quindi ecco proveremo a riprenderci quello che abbiamo perso oggi.